Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale. Siamo entusiasti di averti qui con noi oggi. Prima di iniziare con il contenuto di questo video, vogliamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento per il vostro supporto continuo. Siamo grati per la vostra presenza e il vostro interesse nei confronti del nostro canale. Se ancora non lo avete fatto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. L'iscrizione è un modo fantastico per rimanere aggiornato sulle ultime notizie, le anticipazioni, gli spoiler e le teorie che offriamo qui. Sarà un piacere avervi nella nostra community. Quindi, grazie ancora per essere qui e per il vostro sostegno costante. Senza ulteriori indugi, iniziamo con il video. Sevda è entrata nel cast di Terra Amara relativamente da poco tempo, facendo il suo debutto quando Demir le ha affidato i suoi figli nel tentativo di allontanarli da Zuleya. L'ex cantante è stata coinvolta in una serie di intricati intrecci nella trama, emergendo come una figura complessa all'interno della storia. Inizialmente, Sevda è stata l'amante di Adnan Yaman, il che l'ha messa in una posizione di acerrima rivalità con Unkar, la moglie di Adnan. La rivalità tra le due donne è stata un elemento significativo nel corso della trama, contribuendo a creare tensione e dramma all'interno della storia. Tuttavia, con la morte di Unkar, Sevda ha iniziato a guadagnare una posizione più prominente nella vita di Demir. Quest'ultimo, che aveva sempre considerato Unkar come un'unica madre, ha iniziato a sviluppare un legame più profondo con Sevda, portando a un cambiamento significativo nelle dinamiche dei personaggi. La sua presenza nella trama di Terra Amara ha aggiunto un elemento di incertezza e complessità alle relazioni all'interno dello show, mantenendo gli spettatori col fiato sospeso per vedere come si sviluppa questa nuova dinamica tra Sevda, Demir e gli altri personaggi chiave. Anche per Sevda, il destino avrà riservato un tragico epilogo. La sua morte sarà improvvisa e dolorosa, ma la sorprendente ironia della sorte sarà che l'amato Demir sarà in parte responsabile di questa tragica svolta nella storia. Tuttavia, non sarà questo l'unico intreccio oscuro a sfiorare la trama. Demir, trovandosi coinvolto in questa situazione, si prenderà la briga di nascondere il cadavere di Sevda per proteggere il vero assassino e nascondere la verità. Ma chi sarà il misterioso assassino? Chi è dietro a questa morte tragica e quale oscuro segreto verrà alla luce? Gli spettatori, certamente, saranno affascinati dalla suspense e desiderosi di saperne di più su questo enigmatico giallo che si sta sviluppando nella trama di Terra Amara. Le intricate relazioni e le oscure motivazioni dei personaggi renderanno la ricerca della verità ancora più coinvolgente, tenendo gli spettatori incollati allo schermo per scoprire chi è il vero colpevole di questa tragica morte e quali conseguenze avrà per il futuro degli altri personaggi. Tutto avrà inizio dalla rabbia di Umit, che, spinta dalla furia, deciderà di uccidere Demir. Quando si troverà di fronte a Demir, con una pistola puntata contro di lui, sarà evidente che l'intento di Umit è chiaro. Tuttavia, la tragedia prenderà una piega inaspettata. Quando il colpo partirà, Sevda si metterà tra Demir e la pallottola, sacrificando la propria vita per proteggere l'uomo che ama come un figlio. Morendo, Sevda avrà un'ultima richiesta da fare a Demir. Chiederà a lui, con il fiato che le si spegne, di fare in modo che Umit non finisca in prigione per averla uccisa. Nonostante le azioni turbolente e controverse della ragazza, Demir farà una promessa all'amica morente. Non permetterà che la figlia venga arrestata. Questo intreccio drammatico e carico di emozione aggiungerà ulteriore complessità alla storia di Terra Amara, mettendo in luce il conflitto tra la giustizia e il desiderio di proteggere i propri cari. La promessa di Demir a Sevda sarà un peso sulle sue spalle. E gli spettatori saranno affascinati dal modo in cui questa decisione influenzerà le dinamiche dei personaggi e la trama complessiva dello spettacolo. La morte di Sevda rappresenterà un momento di profondo dolore per Demir, che si troverà nuovamente a dover dire addio per sempre a una figura importante della sua vita. La perdita di Sevda sarà una ferita emotiva profonda e dolorosa per lui, che dovrà affrontare la realtà di aver perso una persona che aveva preso un posto significativo nel suo cuore. Tuttavia, nonostante il dolore e il lutto che lo affliggeranno, Demir si farà forza per tornare alla sua villa e cercare di comportarsi nella maniera più normale possibile. Sarà ospite di Sermine Betul, ma l'uomo si sentirà troppo assorto nei suoi pensieri per partecipare al pasto. Il suo dolore e la sua tristezza saranno evidenti, e il vuoto lasciato dalla perdita di Sevda sarà difficile da colmare. La scena sarà carica di emozioni, con Demir che cerca in ogni modo di gestire il suo dolore mentre affronta le sfide della vita quotidiana. La morte di Sevda avrà un impatto significativo sulla sua vita e sulle dinamiche dei personaggi circostanti, creando una nuova serie di sfide e difficoltà da affrontare. Gli spettatori saranno testimoni di come Demir affronterà questa tragedia e come questo influenzerà la sua evoluzione all'interno della trama di Terra Amara. Demir si troverà in una situazione estremamente delicata e pericolosa, con il cadavere di Sevda nascosto nella sua auto. La paura di essere scoperto lo farà agire con estrema cautela e determinazione per risolvere questa situazione al più presto possibile. Tuttavia, quando Zuley annoterà delle gocce di sangue nell'auto, la sua curiosità sarà inevitabilmente suscitata, e inizierà a porre domande scomode. Demir dovrà cercare di dissuadere Zuley ad all'indagare ulteriormente, sapendo che qualsiasi sospetto su di lui potrebbe avere conseguenze disastrose. Ma come potrebbe farlo? La promessa fatta a Sevda sarà la forza trainante di Demir, spingendolo a fare tutto il possibile per mantenere la sua parola e proteggere Umit. Per questo motivo, Demir deciderà di chiedere a Umit di lasciare Kukurova, spiegandole che lui si occuperà del cadavere di Sevda. Inizialmente, Umit potrebbe opporsi a questa richiesta, preoccupata per le conseguenze che potrebbe affrontare allontanandosi dalla sua casa e dalla sua vita. Tuttavia, alla fine, capirà l'importanza di ciò che Demir sta cercando di fare e si arrenderà, accettando di lasciare che lui si prenda cura della situazione. Demir cercherà quindi il modo migliore per risolvere la complessa situazione in cui si trova, mantenendo la sua promessa a Sevda e cercando di proteggere Umit da possibili conseguenze legali. La trama continuerà a evolversi, con Demir impegnato nel suo impegno per preservare la promessa fatta alla donna che ha amato come una madre, mentre affronta le sfide e i pericoli che questa situazione comporta. Demir, nel cuore della notte, si recherà in un luogo remoto e appartato, determinato a seppellire il corpo di Sevda lontano da Kukurova. La tristezza e il rimorso lo affliggeranno profondamente mentre si prende cura dell'ultimo atto di commiato verso la donna che ha avuto un ruolo importante nella sua vita. Con le lacrime agli occhi, Demir si rivolgerà a Sevda nel silenzio della notte, esprimendo tutto il suo affetto e il suo dispiacere per la tragica svolta degli eventi. Chiederà scusa per come sono andate a finire le cose, per le scelte che ha dovuto fare e per il fatto che la situazione abbia portato alla morte della donna che amava. Sarà un momento di profonda commozione e addio, mentre Demir cerca di onorare la promessa fatta a Sevda e di affrontare la triste realtà delle circostanze in cui si trovano. La scena sarà carica di emozione e rivelazione dei profondi sentimenti di Demir, mentre si congeda da Sevda in una notte silenziosa e buia, con il peso del suo rimorso e della promessa mantenuta sulle spalle. Grazie mille per aver dedicato del tempo a guardare questo video. Spero che abbiate trovato il contenuto interessante e utile. Se vi è piaciuto e desiderate rimanere aggiornati su altri video e contenuti simili, vi incoraggiamo caldamente a iscrivervi al nostro canale. L'iscrizione è completamente gratuita e vi permetterà di ricevere notifiche ogni volta che pubblichiamo nuovo materiale. In questo modo, potrete essere sempre informati sulle ultime novità e condividere questa preziosa risorsa con altre persone interessate. Ancora una volta, grazie per il vostro sostegno e per essere parte della nostra community. Siamo entusiasti di condividere con voi ulteriori contenuti interessanti e informativi in futuro. Se avete domande, suggerimenti o commenti, non esitate a condividerli con noi. Ci vediamo presto nei prossimi video!